Signor De Luca, buongiorno, volevamo sapere come vede il futuro delle strutture in legno? Le strutture in legno hanno un grande incremento, con l'utilizzo sia di strutture per tetti in lamellare, nell'utilizzo di pavimentazione e accoppiato a tantissimi altri materiali, che effettivamente è un materiale vivo e naturale, ecologico, e ha sempre un calore e differenza di tutti gli altri materiali.